Si sente parlare di Miami Art Basel. La mostra d'arte più importante del mondo, la versione invernale si tiene a Miami nel mese di dicembre. Quest'anno ha accolto 32.000 collezionisti da tutte le parti del mondo e noi come Frost Real Estate abbiamo cercato di sponsorizzare l'evento e di far sì che sempre più persone in tutta Europa fossero lì presenti per presentare i nostri prodotti e i nostri edifici. Quindi Miami è un punto eccezionale per il mondo dell'arte? Miami forse è la Venezia degli anni 2000, è la città nel mondo che ha più dato la possibilità all'arte di esprimersi in questi ultimi anni. Abbiamo appoggiato molto le iniziative in particolare di artisti nuovi che si affacciano al panorama internazionale perché nei nostri edifici Art Deco esponiamo periodicamente opere di artisti principalmente italiani, francesi e spagnoli che vogliono raggiungere oltreo scena la popolarità e devo dire che la possibilità di esporli nei nostri BUDIC Residence ha permesso a questi giovani artisti di avere un primo successo nella tanto sognata America. Un consiglio per i giovani artisti? Ma non mollare mai. Grazie. Buonasera. Grazie.